C'è niente Ho usato il pad però Ah questo gioco si gioca in quattro persone Anecchi Ah si puoi giocare con la tastiera A ver, quanto persone sulle, sulle la tastiera la prima avevo mosso il tizio l shift giusto qual è l shift dc con la d non puoi muoverti come fai giocare ci capite qualcosa non credo che dovremmo dare non 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 un po' più l'ho ah c'è anche la reputazione non capisco come si gioca questo gioco oh 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 devo mettere controlli per i giocatori ah oh 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 oh